Prosegue presso la Maison des Arts della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra fiducia, straniamento e malinconia del Reale, un percorso estetico nella profondità poetica dell'arte figurativa del secondo novecento attraverso le opere di uno dei più interessanti pittori italiani contemporanei dallo stile unico inconfondibile. Circa 90 tra le opere più rappresentative dell'artista abruzzese sono in mostra fino al 17 aprile anche per ricordare il suo settantesimo dalla nascita. Nessuno è profeta in patria diciamo che solo la fondazione che ospita questa mostra ha avuto l'intenzione di recuperare questa storia straordinaria perché negli anni settanta effettivamente Pescara è stato un centro di arte contemporanea conosciutissimo. Più in generale chi era Giuseppe Fiducia? È stato un artista che ha frequentato i grandi disegnatori della scuola pescarese, Tanino Liberatore, Andrea Pazienza e molto diciamo anche dell'impressione del fumetto che qui si nota in questi quadri deriva da quelle frequentazioni e veramente ha dato una carica a questa pittura enigmatica che affascina, che prende l'osservatore. È stata una personalità davvero interessante, davvero interessante e io credo sia ancora molto da scoprire. La fondazione Pescara Abruzzo in collaborazione con l'associazione Archivio Fiducia ha voluto rendere così omaggio ad uno degli artisti più originali della pittura figurativa contemporanea. Lui diceva più volte che non voleva essere chiamato artista ma pittore, perché pittore? Pittore nel senso classico dovuto al fatto che lui usava le tecniche, ha usato tecniche complicatissime che erano quelle tecniche che hanno usato i grandi pittori dal rinascimento in poi. Poi lo stile linguistico dell'artista conferma la sua originalità da tutti i punti di vista.